Questo è il nostro ultimo arrivato tablet 2 in 1, si chiama Stylistic R727, è una macchina assolutamente nuova, il suo predecessore montava processori di sesta generazione e questo è stato aggiornato dal punto di vista tecnologico, quindi monta settima generazione Intel, arriviamo all'i7 7600, in questo caso è un i7 7600, e sprendibilità di memoria arriviamo a 16GB di DR4, hard disk solamente SSD a partire dal 128 fino al 512, a differenza di molti altri prodotti nel settore, oltre alla tecnologia di connettività wireless, ha anche la tecnologia embedded LTE, UMTS LTE di ultima generazione, quindi permette di avere la connettività anche in giro. Ha la sua tastiera, come potete vedere, magnetica e ha anche la possibilità, in questo caso non c'è fisicamente, ma ha la possibilità di avere anche una sua credo, quindi una sua docking station che si può inserire anche con la macchina così come è esposta. Ovviamente essendo di settima generazione Intel monta solo Windows 10 Professional. Questo è il nostro convertibile T937, appena uscito, processore Intel di ultimissima generazione e settima generazione, in questo caso è un i5 di settima generazione, un 7500, in realtà è una macchina configurabile come tutti i nostri Livebook, anche fino all'i7 con 32GB di memoria. La particolarità di questa macchina è che a differenza di altri nostri modelli due in uno, questo è un convertibile, quindi il monitor non si sgancia, ma possiamo fare una rotazione a 360 gradi, come potete vedere. La macchina esce con il suo display ovviamente touch, ha anche il pennino, e viene definita a tutti gli effetti un Ultrabook, quindi un Ultrabook convertibile. A bordo ovviamente è configurabile tutte le tipologie di hard disk, quindi dall'exata tradizionale 7200 agli SSD fino al 512GB, la RAM, l'ho detta, arriviamo a 32GB di memoria, ha il suo docking station port replicator, a bordo connettività wireless di ultima generazione dual band e la possibilità anche dell'UMTS LTE. Essendo i settimani generazioni Intel ovviamente monta solo sistemi operativi Windows 10 Pro e non Windows 7. Pesa un chilo e mezzo.